Ciao a tutti bentornati al mio canale oggi con un eyeliner fluo. Ho fatto i decori con un eyeliner. Se volete sapere come ho fatto seguite il tutorial. Allora ho iniziato applicando una base trasparente e lascio asciugare per bene. Utilizzerò questo smalto fluo e darò una prima passata lascio asciugare bene. Poi con la seconda passata otterrò il massimo del colore. Per fare i decori ho preso questo eyeliner che lo avete visto nel mio video del top and flop e mi è piaciuta l'idea di fare un anellare e approfittando che c'è questa punta a forma di spugno ho pensato di fare dei fiorellini. In pratica inizio appoggiando la punta dell'eyeliner e un po' di lato e lascio tracinare il pennellino e faccio i petali. Correcco dove io vedo che ci sia bisogno. Questo asciuga super veloce. Ecco qui già si è asciugato e approfitto e faccio diciamo tipo un rametto e faccio qualche puntino qua e là per abbellire l'anellare. Per le altre dita ho pensato di fare dei pois. Mi è piaciuta l'idea di farlo con questo perché i puntini vengono tondi, vengono belli. Poi ho pensato di mettere una porchia nel centro del mio fiore e poi sigilo per bene e l'anellare è finita. Quest'anellare la vorrei dedicare ad Antonella. Vi ricordo che ogni mio anellare verrà dedicata ad ogni mio follower. Io vi mando tanti vestiti e ci vediamo qui il prossimo martedì alle 14. Ciao!